Sono innamorato. È una cosa greve? E di chi? Della più bella creatora del mondo. È una cosa greve? Di Giorgetta, la figlia dell'albergo. È una cosa greve? Sono innamorato. Della più bella tutela del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo. È un palpeso di mio carico. Ti proibisco di portare così. È la donna che io scoprirò. E dimmi, quando scopri? Ma lei ancora non le sai? E che cosa spezia di... Ma lei ancora non le sai? E che cazzo fai? E che cazzo fai? E che cazzo fai? E che cazzo fai? Che cazzo fai? Che cazzo fai? Che cazzo fai? Cazzo fai? Vuole sposarvi? Davvero, Olio? Avanzi, parla su. Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere. Ammette qualche altro? È così. Oh, non posso aspettare che un giorno Giorgetta... Non potrà mai essere. Oh, non posso aspettare... Ancora! Bob Di cattolo Che Che Ah Oh Sì, apprav sentido comandanti Andrò a buttarmi nel fiume! Andrò a buttarmi nel fiume! Bene! Che d'acqua? Ese non è un momento di scazzare! Lo so! Tu non hai mai provato in grande modo! E va bene! Ma lei ancora non le sa! Addio Olio! Addio! Addio Olio! Addio! Uno! Due! Olio! Addio Olio! Addio! Addio Olio! Uno! Due! Addio Olio! Nessuno deve uscire da nessuna porta e per nessun motivo! Signor Seed! Comandante! I prigionieri sono evasi! Come? I prigionieri sono evasi! Come? Comandante! I prigionieri sono evasi! Come? Si può sapere che fai! Comandante! 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 Questa cosa fa un seguito! Questa cosa fa un seguito! Come? 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 Ciao